Amici ma soprattutto nemici bianconeri buonasera buonasera l'ha detto a Cresti l'ha detto di Marzio ma io sono tranquillo nel senso che non ci credo nel senso che non ci credo perdonatemi io non ci credo l'avessi detto Romano l'avessi detto Pedolà anche se mi sta sul cazzo però diciamo che hanno più attendibilità ma Cresti è quello di Di Balla che resta 100% per l'amor del cielo non ci credo completamente non ci credo nella maniera più assoluta l'offerta dell'Avenus di 35 più 10 di bonus ad Attaiemia non ci credo perché allora significherebbe che l'Avenus veramente è nel caos più totale perché prima con i soldi di Solè e con i soldi di Yusiswen deve pensare a Coppomaia poi deve pensare a Otto Tipo ora deve pensare a Attaiemia perdonatemi non ci credo ma facciamo finta che ci sia questa offerta a me mi dispiace venirvi contro io non voglio essere il bastian contrario della situazione non vi dovete focalizzare semplicemente sulla finale di James per quanto riguarda Attaiemia Attaiemia è un grande giocatore ha 22 anni si è un grande giocatore però ragazzi ha fatto 22 partite due gol e un assist in Bundes se non sbaglio col Borussia di Dortmund e soprattutto ragazzi è la cosa fondamentale sono gli infortuni ma io ce l'ho avuto un caso come Attaiemia un grandissimo giocatore come Douglas Costa che è quello che avrebbe vinto il pallone d'oro se fosse stato in perfetta condizione fisica ma purtroppo quello faceva una partita sì e 7 l'esaltava e la paura visto leggendo gli infortuni di questo Attaiemia è tanta non lo sto criticando eh non lo sto criticando non lo sto criticando però 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 ho paura e se questa offerta fosse vera e io non ci credo io non ci credo io non ci credo è una cosa mia personale non ci credo ragazzi io mi risocio io mi risocio io mi tengo chiesa io ho avuto il contratto e mi tengo chiesa perdonatemi mi tengo chiesa poi c'è anche stato c'è anche Marchetti che ha detto su Sky l'avendo su abbandonato la pista Coppa Maestro c'è l'inferno c'è il bordello ragazzi c'è il bordello c'è il bordello notizia a destra notizia a sinistra poi siete voi a cercare di capire quale dovete prendere quale non dovete prendere c'è il bordello più totale c'è il bordello più totale io penso che avendo se non sia confusa perché le ultime parole famose di giuntoli sono un difensore un centrocampista e un attaccante scusate sto finendo ciao 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 eccovi 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 quindi dicevo giuntoli un centrocampista un difensore e un attaccante chi saranno ragazzi che saranno non lo so però ribadisco ad aiemi è un'incognita grossa quando una casa il giocatore non si discute il giocatore è quello che però possiamo mettere in considerazione dobbiamo prendere in considerazione questo fatto degli infortuni sì dobbiamo assolutamente dobbiamo si deve è obbligatorio perché poi facciamo una partita poi si infortuna e sta cinque partite fuori a noi serve un giocatore bravo ma soprattutto e abbia una continuità fisica eccellente poi ragazzi i crociati i menischi e compagnia bella possono possono spaccarsi al giocatore più sano del mondo però che io mi vada a comprare a spendere 45 milioni sapendo che c'è un papello di infortuni scusate allora me la vado a cercare non sto criticando il giocatore perché poi cominciate nei commenti e non ti va bene nulla no io sto semplicemente portando a cronaca quello che è quello che l'identikit di questo giocatore tutto là comunque io non ci credo a questo affetto io penso che la piena sia indirizzata a risolvere questa situazione coppa poi vediamo se esce una giondolata perché come sempre giuntoli può anche riservare perché tante non ci abituate a questi a questi colpi dove noi tutti sono fissati con questi nomi come vi ho detto ieri fatelo un nome nuovo e poi magari lo farà giuntoli vediamo qua ormai siamo in ballo e balliamo un abbraccio bassici incazzati fino alla fine forse bene ciao 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 ciao